Sembravano due occhi sinceramente, un applauso alla signorina che giunge tra di noi, visto che tutti noi non possiamo giungere, se c'è una musichetta, se c'è qualcuno che sa mungere perché c'è proprio il latte a leggere, si ringrazia. Bene, conosciamo meglio questa signorina, nel limite del possibile, anche perché è il suo compagno che ci sta fotografando, voi sono vestiti o una mentre ci rivestiamo? Conosciamo questa signorina che ho già visto qui ballare benissimo il... Bacciato. Bacciato, io penso, visto che siete invece in osa, anche un po' di più, potete osare, va bene, comunque, se ti basta, bacciato, va bene. Ehm, che ho detto? Non lo so neanche più. Bene, allora, come ti chiami, scusa? Irene. Come? Irene, Irene. Un nome da donna, eh? Da dove arrivi, Irene? Merlara Padova. Merlara Padova, pensate, questa donna arriva da due posti contemporaneamente. Perfetto, si è divisa un po' di qua, un po' di là, è comodo, è comodo. Così, scusa, già che c'è disegnere la merlata e pa, potete andare in due posti diversi in vacanza, vedi qui, e anche abuduiti. Vabbè, comunque, facciamo il gioco che è meglio, bene. Hai un mazzo di carte? No. Sto ragazzo ha un mazzo di carte? Qualcuno ha un mazzo di carte? Nessuno. Se non le portavo io non si faceva... Per fortuna le carte le ho portate io. Eccole qua, sono delle carte un po' più grosse, così anche gli amici, là in fondo, possono vederle bene. Bene, sono carte di come quando cuori fiori, cuori quando cuori fiori, cacchio piove. Per ricordarci dei semi, si dice così. Gentilmente dovresti mischiarli, se ci fosse più tempo tu dovresti mischiare. Purtroppo non c'è tempo, no, no, puoi mischiare se vuoi. Sì, sì, nel frattempo io... Qualche, adesso ne faccio di migliori, eh. Visto papà, finalmente solo. Hai visto come hai tirato il razzo, ho detto a me che devo stare con questo tutta la vita. Allora, grazie, io ti spacco il cd e anche il lettore dice... Lo prometto sui miei figli, non ho figli ma quando li avrò, casomai... Allora, hai mischiato le carte? Perché i maghi usano le carte, no? Perché tutti i maghi usano le carte? Perché non usano, che so, la puleggia di una voggibile? Perché non usano la batteria di una macchina, no? E usano le carte. Perché c'è un motivo. Perché, per esempio... Questa non la ricordo bene, questa battuta, com'era. Perché ogni artista parla attraverso un qualche cosa. Che so, per esempio, il pittore parla attraverso... Pennelli? In viaggio di nozze, allora... Se mai vi sui dice... Andiamo a vedere la mostra dei pennelli di Van Gogh, non sei mai... Attraverso i quadri, Irene, questa era quella da Merlata, non ti parla. A volte parla una, a volte l'altra. Come se ne è d'accordo? Vabbè, faccio la più facile. Il poeta parla attraverso... Le poesie. Brava! Attraverso le poesie. Quindi, il poeta attraverso le poesie, il pittore attraverso i quadri, invece il mago parla attraverso le carte. Bene, cari amici del pregole nani, mi fa veramente piacere... Sì, ma non l'ha capita. Se non capisce questa, è la più facile che... Passiamo all'esperimento che è meglio. Passiamo all'esperimento che è meglio. Abbiamo questa carta, lei gentilmente dovrà sceglierne una, quella che vuole. No, quella che vuole, quella che vuole. No, 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 no. No, quella che vuole lei, non si faccia influenzare da... Vabbè, mi giro così. Vabbè, mi giro. Prendi la carta che vuoi. L'hai scelta? Bene. Adesso tutti quanti dovete girarvi dall'altra parte. No, va bene così. No, lei si deve girare dall'altra parte. Chi si deve girare? Ah, io mi devo girare. Con tutta la gente che c'è, proprio... proprio io. Bene. Attenzione, il bambino che c'è il bicchiere di vetro in mano, mentre che è inciampa, è facile che cadendo sul bicchiere... No, si può fare male, è vero? Che qui è tutto scosceso, è scosceso e poi non la colpa. Bene. Allora, io mi giro e tu devi portare il pubblico a conoscenza del valore nominale della carta. Va bene? Allora, io mi giro, però mentre mi giro non me lo dovete andare, va bene? Tattasera mi sono girato un'altra, non c'era più un cacchio di risolta. Non faccio neanche per la figura, va bene? Allora, io cadio in una concentrazione di sonda. Favere la carta. L'avete vista? Sì! Adesso mi giro, prendiamo la carta e la mettiamo... La mettiamo... Davi la carta. La mettiamo in mezzo a tutte le altre carte che è le stesse alla Irene, mi schiavo. Va bene? Allora, la mettiamo qua in mezzo. La mettiamo in mezzo. Per favore, eh? Ma io vengo al tuo lavoro a toccarti il mouse. La gente beve, c'è il free bar, poi rompe le scarpe. Io mischio, mischio. Adesso attenzione, taglio le carte in un punto qualsiasi. Qui, così, così. E se la carta che è in cima al mazzo è la stessa che tu hai scelto precedentemente di sfruttare volontà, cari amici, vuol dire che sono un mago, voi controcazzi. Sono abituato agli oratori che mi vengono stanno a mezzo. Che carta hai scelto in renuncia? Questa è l'altra, sempre quella di Berlata. Ilunga di fiori? Ha scelto la ilunga di fiori. Facciamolo dire al marito, così la voglia di andare. Qua ci voleva proprio una musichetta, mentre diceva sta cosa. Invece, sto scherzando. Cos'è stai lunga che tu la capisci meglio? Jack, forse, Jack, 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 grazie, amica, questo mi fa onore perché non conosce le carte, è bene. Jack di fiori, adesso prendiamo il jack di fiori, se qua c'è il jack di fiori lo dico, sono un mago, e quindi prendo sempre un applauso, signori, il jack di fiori! C'è vita anche al di là della palma, ma no, però vedo che molti sono rimasti un po', vedo come una specie di scetticismo serpeggiare tra le sedie, perché molti stanno dicendo, ah, sicuramente lui avrà fatto un'orecchietta alla carta, quindi... Per lui è facile andare a ritrovare la carta, bene, facciamo più difficile, adesso facciamo così, le scelga la carta e poi sarà lei stessa a inserirla in mezzo alle altre, va bene Irene? Tu capire tutto quello che... Allora, prendi la carta quella che vuoi, bene, quella che vuoi, quella che vuoi, quella che vuoi, prendi la carta che vuole, ricordatela bene, ecco, e poi sarai te stessa a inserirla nelle altre, e per prendere il gioco molto più difficile toglierò qualche carta, bene, Mi voglio rovinare, bene, adesso come prima, tu fai vedere la carta, io mi giro, bene, fai vedere la carta, ecco, l'avete vista? Sì! Adesso non fargliela toccare perché sarai te stessa a inserirla tra... Per favore, ma se lo so fare solo così, che vuoi? Avete la carta in mezzo, scusate, la carta... La carta in mezzo, mischio, mischio, Adesso mi autocoagulo, Keke, Yuri, Yuri, Keke, 1, 2, X, Mi rimane solo una carta, che carta hai scelto? 7 di quadri, incredibile, disumano, 7 di quadri, Ecco, Salutiamo la serenera, ci saluti tutte le sue città, suo marito, è lunga, L'applauso per la splendida Irene, che donna, per una donna così darei un anno della mia vita, l'81 che ho fatto in militare, bene, adesso basta, l'esperimento di soggiogazione molecolare di un oggetto in animale, Piegati! Piegati! Ho un cucchiaio, ti ordino di piegarti, piegati! Piegati! Per favore, piegati! Allora, se c'è qualche altro mago in sala, non deve piegare pure lui, se no io piego di qua, lui piega di là e... Allora, non lo faccio!